Ciao pavone! Stai in step? Non ti bulli più? Basta eh! Certo che queste sono le giraffe. Ah sì, in effetti la micuzza è andata via con tutti i cenni. Eh, agiliato, tesoro, benvenuto nel club. Ai 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 ai. Questa è la faccia di un pavone che va via mesto mesto. Ha passato la cresta. Quanto saranno? Eh? Quanto saranno lontani giranti da noi? Da noi? Saranno quattro metri, tre metri, quattro metri. Sì, la spanna e se ci vado di fianco... Ciao! Saluta Giglio! Uh, ciao! Salutati, giraffe! Ciao! 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 Almeno se mi si metto di fianco ci arrivo... Forse è la fine della zampa! Più o meno! dovremmo chiedere come fa ad avere il blu lui? lui può, lui può, ha speso un sacco di gettoni evoluti per avere quel blu, però i nostri cuscini richiamano proprio i suoi colori perché guarda c'è proprio quel verdino un po' smeraldino e il blu sparato, io voglio due cuscini, ma io posso comprare i vostri cuscini? voglio due cuscini di quel colore lì anche di cui se ne avete, li voglio e anche Gigi, torneremo all'attacco più tardi, non si papi papi, ma che belle sono stanno vicini vicini, vicini vicini ma quindi vuol dire che tipo quella là è quella che rincastigo? secondo me sì, c'è un po' la tendenza sociale Ah, si è ritornato? Si è ritornato qua, eh? Pavone Ma che bello è Ciao, giraffine Dobbiamo andare a liberare la camera Ciao, giraffine Ciao E' stato bello Emozionante E' ricco di girasse Ciao, giraffine Che scodinzoli verso l'orizzonte E' oltre